ragazzi io l'avevo detto di racchiuso poteva andare peggio piovere magari poco ci manca valeva la pena di provarci e che possiamo anche andare ragazzi però più aperto non c'è nessuno c'è qualcuno permesso quanto mi è mancato questo posto già la feria dai che si faccia una sorata dai grazie 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 ma cosa fate qua? scusa abbiamo fatto aperto e non abbiamo resistito se vuoi ci vediamo no dai ormai che siete qua fate un pezzo ma un pezzo rock non mindi ok va bene grazie 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 Ma arriva poco quindi ci dovremo un po' raggiare Ma per fortuna ci siete voi Chiamate il Druso e la musica live Compra un gadget, lo devi aver perché Così il Druso sarà dentro di te Se vuoi venderti possiamo valutare Merchandising per un gioco d'amore Come on! Ma chi è stato a fare tutto questo bordello? La sera stecca al gruppo levamo lei Grazie! 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 Grazie!